Un pomeriggio di ordinaria follia, quello vissuto da un uomo di 51 anni di Ascoli. In un periodo in cui avere liquidità è un'utopia per tutti i lavoratori del Piceno, la disperazione lascia spazio ad azioni incomprensibili, come quella che ieri ha visto protagonista un ascolano. Alle 15.50 ha caricato le sue due pistole, è salito in auto nonostante la moglie cercasse di dissuaderlo e si è diretto alla volta della UBI, ex banca popolare di Ancona, con l'intenzione di compiere una sorta di rapina a prelievo. Blaterava frasi sconnesse e la consorte preoccupata ha allertato la polizia. Una volante ha intercettato l'uomo nei pressi della standa, lungo via Napoli. Lo ha bloccato e perquisito, rinvenendo una pistola Sig Sauer con quattro proiettili nel caricatore ed un revolver Smith Wesson privo di proiettili nel tamburo. Nelle tasche anteriori dei pantaloni nascondeva numerose munizioni per entrambe le armi. In casa invece aveva due fucili calibro 12, una carabina semiautomatica calibro 30.06 regolarmente detenuti ed un fucile ad aria compressa. Inoltre sono state sequestrate 510 cartucce di vario calibro, tre coltelli a serramani, con un pugnale, una roncole e un'ascia, un vero arsenale. L'uomo è stato arrestato per porto illegale di armi da fuoco. Al momento del fermo è stato confusionale e ha dichiarato al personale che stava andando in banca a prelevare denaro anche con la forza. Insomma una rapina in piena regola ma con la convinzione di essere dalla parte del giusto.